Sono 104 le donne uccise in Italia nei primi 11 mesi del 2022, 88 sono state massacrate in ambito familiare o affettivo e di queste 52 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. I numeri arrivano dal report annuale, il pregiudizio e la violenza contro le donne realizzato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale. Analizzando gli omicidi di quasi tutti il 2022 emerge un lievissimo aumento dei numeri generali, 268 gli eventi del 2021 contro i 273 del 2022 e di contro un piccolo calo in quelli di genere femminile che passano da 109 del 2021 ai 104 del 2022. Su questi numeri sono in calo del 12% anche i delitti commessi in ambito familiare o affettivo, 88 le vittime femminili contro le 94 dello scorso anno. In calo anche i femminicidi commessi dal partner da 68 a 56, ma c'è da segnalare che su una media di un femminicidio ogni tre giorni dei primi 11 mesi del 2022, nella sola ultima settimana della ricerca, dal 14 al 20 novembre, su 10 omicidi, 7 hanno avuto delle donne come vittime, una al giorno.